salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto sul canale un video assurdo un video sicuramente inutile ma assurdo un video di quelli che non siete normalmente abituati a vedere qua sul mio canale anche se strettamente collegato a quello che normalmente porto qua sul mio canale e vi dico solo che il tutto si svolgerà qua questa sarà la location del video ragazzi preparatevi a una cosa veramente pazzesca l'unica pecca sarà la luce perché essendoci tanta luce non riuscirò a trasmettervi attraverso le videocamere è quello che succederà invece a essere qua e vedere tutto in live ecco questa è l'unica pecca che mi spiace ragazzi ma c'è troppa luce per poter far rendere la telecamera per quello che realmente è stando appunto qua direttamente dove sono io però ragazzi accontentatevi perché secondo me comunque è il concetto che è veramente pazzesco e io ovviamente me lo gusterò fino in fondo perché sono qua a voi un pochino meno perché la luce è davvero troppo fastidiosa però detto tutto questo adesso è ora di iniziare questo video assurdo quindi iniziamo la preparazione e tavolino dell'ikea da 9 euro 90 che viene sempre buono in tantissime situazioni direi che sta venendo tutto benissimo probabilmente il più l'abbiamo fatto ma c'è ancora qualcosina da fare procediamo perfetto non ci resta che installare l'apple tv non ci resta che installare l'altro perfetto un altro accessorio l'abbiamo posizionato adesso non ci resta che attaccare le spine allora ci siamo quasi ragazzi facciamo la prova tv andiamo ad accenderla ok si sta accendendo l'apple tv si è accesa anche lei c'è il piccolo led acceso infatti siamo nella schermata dell'apple tv ma adesso cosa manca manca l'accessorio principale quindi adesso vado a prenderlo perfetto ci siamo ecco l'accessorio principale no mi manca un altro particolare aspettate che vado a prenderlo ecco che ho preso l'accessorio mancante senza di questo ragazzi non si poteva fare questo video assolutamente no quindi andiamo a posizionarlo perfetto perfetto accessorio indispensabile posizionato e ragazzi ormai ci siamo penso che ormai avete capito cosa sto per fare ve l'ho detto un video inutilissimo ma secondo me tanto tanto incredibile quindi procediamo andiamo ad accendere lui il piccolo dj mini 2 in attesa dell'uscita dell'uscita del mini 3 e adesso non ci resta che posizionarlo sul landing ci siamo adesso state per vedere qualcosa secondo me veramente unico inutile ma unico allora televisione abbiamo detto con apple tv dj dj mini 2 pronto al landing lì dietro di me poltrona super comoda di quelle veramente relax quindi televisore 47 pollici e ragazzi adesso inizia la parte divertente del video quindi cosa dobbiamo fare dobbiamo far comunicare lo smartphone con l'apple tv quindi per fare questo basterà entrare nelle impostazioni andare in duplica schermo ecco apple tv rilevata e ragazzi dovrebbe apparire il mio telefono ed eccolo qua quindi a questo punto non ci resta che entrare nella dj fly e walla ragazzi quello che sta inquadrando guardate i miei piedi quello che sta inquadrando il dj mini 2 lo vedo nella televisione a 47 pollici ragazzi fantastico fantastico sono emozionato allora detto questo direi che è il momento di decollare quindi piloterò il drone senza guardare lo smartphone comunque l'avrò a vista infatti sarebbe stato molto più semplice farlo stando sul divano con la televisione davanti già montata quindi senza fare niente e il drone fuori di casa però ovviamente il drone non sarebbe stato a vista quindi sarebbe stata una cosa un po fuori dalle regole mentre fatto così il drone sarà a vista quindi a questo punto non ci resta che decollare facciamo partire la registrazione video avevo già fatto un video così probabilmente tre anni fa c'avevo ancora l'air prima versione però l'avevo fatto stando in casa avevo fatto una cosa molto easy stavolta invece ho cercato di fare qualcosa di più impegnativo qualcosa ancora di più divertente anche se ovviamente è qualcosa di affascinante anche se inutilissimo ripeto inutilissimo quindi diamo il via al decollo automatico take off ed ecco qua il mini 2 e la cosa bella che l'audio si sente nella televisione cioè quando parla la dj fly perché come sapete la dj fly parla adesso mi alzo un attimo così mi vedete da lì ecco ciao ragazzi ciao fantastico comunque la cosa bella che quando la dj fly parla come sapete si sente nello smartphone ma essendo trasmesso in televisione si sente dagli autoparlanti della tv quindi è strepitoso in tutto adesso però ragazzi divertiamoci un attimo quindi saliamo di quota wow è fantastico ovviamente è un volo easy è perché sono praticamente in zona abitata quindi non ci faremo niente di straordinario ma è solo per vedere come sarebbe gustarsi una cosa del genere in maxi schermo ed è strepitoso guardate che bello è incredibile è incredibile aspettate che mi adesso mi inquadro così vi saluto alzo un po la telecamera ecco lì che mi vedete lì vado in impostazioni foto e vado a cliccare una bella foto ne vado a cliccare un'altra che cagata allucinante ragazzi però è bellissimo cioè è assurdo perché vedere tutto il menù della dj fly lì spero che dalla istago 2 riusciate a vedere bene perché non so che riflessi ci siano ma è strepitoso strepitoso ragazzi proviamo a fare un quick shot facciamo un droni dove il drone si allontana da noi che secondo me anche una bella immagine di quello che sto facendo quindi entriamo nei quick shot andiamo a selezionare droni lasciamo 25 metri selezioniamo il soggetto perfetto e diamo lo start sta per partire guardatelo guardatelo lì e guardatelo la fantastico bellissimo sta cosa è stupidissimo ma di un divertimento incredibile è bello che poi il drone lo vedo che passa attraverso le piante perché comunque qua davanti è un frutteto per la maggior parte le piante sono piante da frutto e ce n'è tantissime e lui ci sta passando in mezzo perché comunque lo vedo a vista quindi non sto rischiando particolarmente niente di pericoloso a questo punto ragazzi direi che però possiamo anche ri atterrare adesso mi metto in posizione quasi quasi mi scatto una foto stando così perfetto scendiamo mi allontano un telo così la uso come foto copertina del video ok calcolando che non vedo il landing vado un po a occhio vediamo dovremmo esserci sono sul landing non lo so spero spero di sì secondo me sì atterriamo perfetto ho beccato il landing senza guardare perché non lo vedevo perché c'ho davanti il tavolino e la televisione quindi non si vedeva guardate i miei piedi strepitoso ragazzi strepitoso non lo so ditemi voi nei commenti cosa ne pensate lo so che è una roba inutile quindi non scrivetemi la roba più inutile del mondo non scrivetemi cosa così perché lo so anch'io non è che sto dicendo wow ho fatto l'invenzione della vita una cosa utilissima no lo so ma è sicuramente un'esperienza incredibile pilotare un drone su una televisione da 47 pollici e poi fatto comunque col drone a vista e quindi in totale sicurezza e poi su una poltrona ragazzi di una comodità incredibile è tanta tanta roba altro che stare in piedi a fare i video no comodi è così che bisognerebbe fare i video con i droni stando comodi visto che adesso abbiamo la possibilità di volare e fare delle riprese in totale sicurezza e con dei droni incredibili ci mancherebbe una postazione del genere da portarsi a dietro e mettersi comodi dove c'è dei panorami incredibili e volare sarebbe davvero pazzesco magari un giorno nel futuro con degli schermi olografici potremmo avere delle postazioni trasportabili chi lo sa comunque ragazzi questo come vi ho detto era solo un video stupidissimo però vi aspetto qua sotto nei commenti per la vostra opinione condividete il video se secondo voi è un video che è divertente che vi è piaciuto che è assurdo ma magari comunque apprezzabile per quello che è l'idea se è così ragazzi mi raccomando lasciatevi un grosso pollice su seguitemi su instagram ho posto tante novitante prime voli in fpv stampe 3d tantissimi spoiler di quello che porto sul canale arriva su instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posso tantissimi coupon sconto riguardante i droni e tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per operativi neanche un video un volo una recensione un testo un tutorial una novità o una cagata come questa ciao al prossimo video ciao